Buongiorno, buonasera ragazzi, bentornati dall'Eccelso, veramente umiliante, partita veramente umiliante, posso dire per certi aspetti preannunciata, vista la formazione, vista questa difesa inedita, però veramente brutta, veramente brutta, mi sembra zero tiri in porta, praticamente l'uomo più pericoloso della partita è stato Kingston con quel tiro alla fine che ha gasato. Io devo dire la verità, io a livello proprio psicologico pensavo potessimo perdere oggi, l'ho parlato con il Braina, perché c'è una sensazione di appagamento generale dopo queste tre partite con Atalanta, Juve e Inter, ingiustificata per quanto mi riguarda, perché ripeto il campionato, lo ripeto per l'ennesima volta, ad oggi non è un campionato positivo. Ci dovessimo salvare l'ultima giornata, potremmo fare delle valutazioni, ad oggi il campionato non è positivo, ok? Quindi senso di appagamento ingiustificato e oggi si è visto, cioè oggi è una squadra che entra in campo pensando di essere salva probabilmente e fa fare la passerella a Genoa. Tra l'altro non è solito mio far complimenti agli avversari, però devo dire che Genoa, come ho scritto nelle storie, è una realtà veramente bella a livello di allenatore, di dinamismi, di tattica, di movimenti senza palla, di tifosi. Veramente complimenti, perché oggi, ripeto, parliamo di una neopromossa come la nostra, con la nostra squadra, quindi partiamo dallo stesso punto, ma mi sembra che i punti di arrivo siano completamente diversi. Lasciate perdere che ci separano dieci punti, che sono un'enormità in un campionato di dieci punti per due neopromosse, ma lasciate perdere che ci separino dieci punti. Ma l'identità di gioco che ha il Genoa, che posto che si è già salva da mesi e quindi ha giocato come ha giocato sulle ultime partite, è stata spesso e volentieri molto sfortunata. Veramente arriva con una consapevolezza di gioco, di tutto, di ambiente, di qualsiasi amalgama possibile che c'è tra questi giocatori, tra gente che entra e gente che esce. Veramente complimenti. C'è da dire però che il Cagliari oggi non ha capito veramente niente, che siamo veramente in difficoltà quando appunto mancano lì in mezzo dei riferimenti. Io davvero, la formazione iniziale ha inquietato per non parlare dei cambi. Io oggi, Sulemana e Macumbu sono convocati, ok? Mi sembra che siano convocati se non ho rivisto anche il post su Instagram. Ma stanno male? Hanno qualcosa? Cioè a fine primo tempo l'unica sostituzione che dovevi fare per quello visto nel primo tempo era mettere dentro Sulemana in mezzo al campo. O Macumbu, toh! Ma secondo me è Sulemana ancora di più. Ma com'è possibile che per 90 minuti non sia venuta in mente quest'idea? Cioè oggi mancava uno dei due lì in mezzo. Ma nessuno l'ha notato? Se non l'ha notato Ragneri, ma nessuno gliel'ha fatto notare in 90 minuti? Nessuno gliel'ha fatto notare? Nessuno gliel'ha fatto notare? Ragazzi, è imbarazzante questa difesa inedita. Cioè ma difesa inedita, ma non è che possa andare sempre bene l'esperimento? Cioè io, quello che ho scritto su Instagram, veramente, lasciate perdere che la titolarità Dossena-Mina si sta rivelando ottima. Ma io voglio ricordare che abbiamo preso Azzidiakos e quest'altro, Viettesca, e abbiamo andato via Altare gratis e Goldaniga idem. Cioè ma scusate, ma tra Goldaniga e Altare questi due ne passa dalla Champions League alla Serie C. Cioè sono due giocatori, due giocatori con tutto il bene che non ne acchiappano mezza. Cioè sono veramente inetti e inabili alla difesa, ma si vede, sono sempre in difficoltà, sono sempre in difficoltà, sempre in difficoltà. Per poi, cioè, allora io, veramente, adesso andiamo ad analizzare anche il ruolo. Io, allora, non voglio aprire tematiche, robe, cose, perché poi entrano robe societarie e sono frangenti diversi. Ma il Genova, rispetto all'inizio anno, è valorizzato in qualsiasi giocatore, praticamente. In qualsiasi giocatore. Ma mi spiegate ad esempio Obert, ma quale cazzo di percorso è stato fatto per Obert? Cioè Obert anche oggi, cioè sì, vabbè, sul terzo gol fa una minchiata clamorosa, per il resto non è malissimo, però, cioè... Un difensore che guardi e dici... Cioè speriamo che arrivi, non vedi l'ora che arrivi il novantesimo senza che abbia fatto cappelle. Cioè non è un giocatore che ti dà garanzia ad oggi. Non è un giocatore che ti dia garanzia ad oggi. E poi, cioè qua, riapro il dilemma e la cosa che probabilmente in tanti non capiscono. Io spero di salvarmi per poi iniziare a parlare di queste cose, senza sti vincoli che ho di gente che è pronta a bastonare perché... Ah no, perché ci stiamo salvando, grazie, ma ci stiamo salvando per miracoli divini. Se ci salviamo, perché siamo a più tre punti. Attenzione ragazzi, eh. Più tre punti con ancora degli scontri diretti. La prossima è in casa con Lecce. Attenzione ragazzi. Attenzione. Ok? Che qua nessuno regala niente. Nessuno regala niente. Ok? E chi regala, come ha regalato a noi il punto l'Inter, lo regala anche alle altre. Quindi non pensiamo che siano stati forti robe e cose. Perché chi poi si è visto la partita dell'Inter a San Siro contro il Milan, ha visto l'aggressività che hanno messo in campo contro il Milan e che l'hanno messo contro di noi. Ok? Quindi è inutile pensare di essere diventati tutto un tratto, una squadra fortissima e formidabile. Ok? Spiego questo concetto. Giocatori come Caetano e Oristagno non possono tornare sulla linea dei difensori. Non possono tornare sulla linea dei difensori. Perché che cosa succede? Succede che Oristagno viene tolto a fine primo tempo perché si è fatto male, ha preso una botta e cose perché a forza di tornare è un giocatore che comunque deve essere decisivo negli ultimi 20 metri. Cosa succede? Che questi giocatori arrivano negli ultimi 20 metri e non sono mai lucidi. Non sono mai lucidi. Tanto che oggi non si è mai tirato in porta. Perché? Perché i giocatori in campo non erano lucidi là davanti. Schumurdo va anche se ha fatto delle corse fino alla difesa. Ragazzi, ma il sacrificio non vuol dire che i tuoi giocatori più offensivi, terminali, debbano essere costantemente sulla linea dei difensori. Perché il Cagliari non ha un modo di attaccare organico come Algenoa invece, che quindi si può permettere magari di portare anche tutti dietro la linea della palla perché poi riparte di squadra con calma. Il Cagliari è una squadra lancioni. Il Cagliari è una squadra che quei giocatori che sono tornati in difesa li devono riaver subito avanti per lanciare la palla lunga. Questi sono concetti di calcio base, 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 base. Se il Cagliari è una squadra che non gioca a palla a terra perché non gioca a palla a terra perché oggi è deciso di togliere addirittura un elemento al centrocampo, ok? Quindi un elemento al centrocampo e quindi di... Scusate un attimo. Vengo chiamato! Lasciatemi registrare! Dicevo, se il Cagliari è una squadra che non palleggia e quei giocatori li devono riaver subito avanti ma mi spiegate questi poveri cristiani come fanno ad essere lucidi? Come fanno a creare occasioni in modo lucido, in modo limpido, in modo ragionato? Ma non si può! Ma non si può! Ma non si può! E ancora mi chiede... Vergogna! Ok? Non si può! Ora concentrati per il Lecce ragazzi Per favore, spero recuperino tutti Dossena, Mina Zappo, Di Pardo, Babanomen entrambi Dall'altra... Chi c'è? Chi c'è? Perché veramente... Non lo so A me Ugello inquieta Scusate, lo devo dire A me inquieta sempre E poi per favore al centrocampo Sulemana, Macumbo Un centrocampo minimamente studiato Minimamente ragionato Minimamente consenso Grazie ragazzi Un bacione ciao a tutti